Il 4 giugno, domenica, si svolgerà un'iniziativa nell'ambito di Bergamo-Brescia, capitale italiana della cultura 2023. Il titolo è 50 miglia insieme nella catena umana, che già ci dice qualcosa di quello che succederà. Inizierei a chiedervi come è nata questa iniziativa. 50 miglia nasce dall'incontro di due realtà, Bergamo e Brescia, e dalla volontà di fare qualcosa insieme. Tutto il nostro incontro, la nostra conoscenza è partita nel 2019, quando a seguito di un Viva Vittoria a Brescia, Viva Vittoria a Bergamo, il Club dei Punti, ci chiese di fare questo evento di piazza. E dall'incontro con queste due realtà è nata un'amicizia, una collaborazione che si è intensificata in quest'ultimo anno, proprio nella volontà di costruire un evento per le nostre due città, che sono capitale della cultura. Quindi 50 miglia è l'incontro di due, innanzitutto di due città, di due gruppi, di due volontà, che hanno deciso di creare una catena umana lunga 80 chilometri, che unirà i due capoluoghi, Brescia e Bergamo, Bergamo e Brescia, partendo dalle sedi dei loro sindaci e dipanandosi attraverso un percorso, che è stato difficile da trovare, ma anche poi alla fine naturalmente così, spontaneamente, era la cosa più logica, ma per attivarsi in un incontro sul ponte di Sarnico-Paratico. Quindi come si partecipa? Innanzitutto devi iscriverti alla web app e ripeto, perché è importantissimo, l'indirizzo web è www.50miglia.bgbs2023.it. Selezioni il tuo checkpoint favorevole, più vicino, più interessante come luogo da visitare, e si utilizza un metodo di pagamento, perché abbiamo associato questo tipo di evento, come tutti i nostri eventi, ad una raccolta fondi. L'importo è di 3 euro per iscriversi, ma che è insieme al pagamento e quando parteciperai e dimostrerai di esserti iscritto, riceverai la striscia che ti verrà data proprio per partecipare attivamente all'azione concreta, sarà la striscia che poi porterai a casa come ricordo dell'evento. Abbiamo detto che si raccolgono questi 3 euro perché c'è una raccolta fondi che va a sostenere che cosa? Sì, abbiamo scelto che i destinatari fossero legati ad un'attività di aiuto per le fragilità degli adolescenti e dei ragazzi giovani. Abbiamo trovato che fosse una cosa molto importante per noi rappresentare e guardare verso il futuro, e per noi i giovani sono il nostro futuro. Quindi abbiamo cercato, e tra i destinatari abbiamo scelto quindi per Brescia, l'unità operativa di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza degli ispedali civili di Brescia. Mentre per Bergamo abbiamo scelto due enti, uno per la città, che è il centro per il disturbo del comportamento alimentare, della casa di cura dell'istituto Palazzolo, e uno per la provincia, che ha un programma che si chiama Angelo Cocchi, che fa capo alla Psichiatria 1 ed è appartenente alla SST di Treviglio. Questo in effetti per noi è molto importante, è una cosa a cui teniamo molto, e ci piacerebbe che anche chi si iscrive alla catena umana possa in questo modo contribuire a questo sforzo immane che abbiamo fatto proprio per arrivare lì. Viva Vittoria ha sempre rappresentato una raccolta fondi per qualcuno, e quindi questo è il momento di farlo per i giovani e per il nostro futuro. Vittoria ha sempre rappresentato una raccolta fondi per i giovani, Vittoria ha sempre rappresentato una raccolta fondi per i giovani,